Continua la battaglia della Lega Nord contro l'operazione Mare Nostrum messa in campo dal governo Renzi. Avete anche presentato due emozioni, una Camera e il Senato per chiedere la chiusura di questa operazione. Sicuramente sì, è un'operazione fallimentare, costa 300 mila euro al giorno. Credo che con questi soldi potremmo dedicarli alla ripresa dell'impresa e a favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro. Credo che questo servizio taxi sia da eliminare perché se si voleva effettivamente garantire il pattugliamento delle coste penso che la Marina abbia potuto fare qualcosa di meglio. Quasi 2000 persone sono arrivate nelle ultime 48 ore, se ne stimano altre ancora in arrivo, il nostro Paese non è preparato a una tale invasione? Sentendo il Ministro Alfano ci sono circa 600 mila persone pronte a partire dalla Libia. Non so dove le potremmo mettere, non so come potremmo fare se l'Europa non si stringe attorno a noi. Credo che questo sistema di buonismo, questa accoglienza a tutti i costi, questo perbenismo non faccia pro né a noi né a loro. Credo che sicuramente sono dei poveracci, ma però voglio dire poveracci che arricchiscono la mafia, arricchiscono gli scaffisti, arricchiscono tutte quelle persone che sicuramente non dovrebbero neanche esistere. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e non dare all'illegalità questa formula di legalità. Scusate il besticcio, ma è una cosa che per noi non va giù.